E sali, tutto il mio iscritto qui è HolderKpal, siamo qui in questo nuovo di Dead Space Sigla Ragazzi, eravamo arrivati qua, dove eravamo rimasti in quella stanza che i nostri due compagni dall'altra parte non possono accedere Ovviamente, noi dobbiamo andare avanti Scheda mancante, a quando pare dobbiamo trovare una scheda Qui ci hanno sblocato la porta e noi dobbiamo andare da questa parte Sto parlando così velocemente, facendo in fretta, perché purtroppo non ho tempo E' sicuro che in questo video sbuca qualcuno No, no, io ti spara Ho sentito lo succedo Vacchia g***a Pochissimo tempo per registrare Ma vacchia g***a di dio Madonna Prova a usare il modulo di stati che hai appena preso Ah, grazie Bella, volano Vaffan c***o le luci Sono riaccese Quindi qua non si va Di là è bloccato Oh c***o Qui ci sono i bagni, no, i bagni no Esploriamo i bagni Ma i f***o Belli sticessi, mi piacciono sticessi ragazzi, molto swag Nodo energetico, non so cosa serva, però va bene A posto una Ricarica stasi Vaffan c***o le luci Oh ma non è morto Ma per c***o Attivato, posto Eh? Ah ciao Io mi campero qua dietro, non me ne prega niente Forse era l'unico E' un f***o Grazie Ok, quello era l'unico ragazzi Per fortuna sono un attimo cecchino Circa Bene, abbiamo riparato Dove dobbiamo andare? Andiamo a tornare indietro Va bene Andiamo, andiamo, andiamo Eeeh Abbiamo 30 munizioni Pfff Ne abbiamo allora Di qua c'è il mostro brutto che non c'è più Perché l'avevamo già ammazzato Salva tutto Salva tutto E' ancora trovare la scheda per il computer di trasporto Nel centro manutenzione E' che ho capito Un attimo Oddio Ciao Ciao Muori Di qua non arrivano più Non ce ne sono più Per il momento no Ma sicuramente adesso non arriveranno altri, si Eeeh No Che mira di m***a Ma quanti m***a sono di sti cosi? Eeeh Quando dico che le munizioni sono troppe Devo tacere perché Sì Perché sì Devo stare zitto Cosa Cosa è quella cosa? No Ragazzi voglio fare una prova Ma sono sicuro che è quello che pensate anche voi VACCA Se lo avessi capito prima Mamma mia ragazzi Ma qui spuntano mostri ovunque Inventario pieno E prendi giro Gattetto Eeeh Anche se io facessimo fin Ci sono cascato prima Non è che Eccolo la Gioco? Hello? I giocatori non sono stupidi? Dipende Ciao Ho finito lo spazio per le munizioni Ma non è possibile Vabbè Sono troppo fuori Io li lascio sempre qua Io non Cioè Non ho perso ancora un chicco di vita Non c'è qualcosa che posso buttare No ma i kit match mi servono Ma vabbè Andiamo avanti Cosa vuoi stai vivendo? Oh Due colpi spaccati di numero Mamma mia Ma quanto siamo forti? Quanto siamo forti? Oh I giocatori sono veramente brutti però Eeeh 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 Fuffa Ma quanto bello sei? AAAAAH I giocatori I giocatori I giocatori I giocatori Ah erano solo questi due Ah Lo so fu solo di più Non mi hai c***o niente Ma sei un infame AAAAAH 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 Ragazzi io salvo Eeeh Basta Cioè io non ce la faccio più Per oggi Penso che possa anche bastare Se il video vi è piaciuto Iscrivete al mio canale Noi ci vediamo Ad un prossimo video Da Holer è tutto iscriviti al nostro canale